bella a tutti ragazzi benvenuti in questo video di nick 908 oggi siamo in un video che tutti si aspettavano forse sì forse no non lo sappiamo non lo so neanche io comunque lo so che tutti quanti vi state aspettando la recensione su questo fantastico telefono qui e direi assolutamente di aprirlo senza spaccarlo ovviamente e passare alla fotocamera posteriore per spiegarvi tutte le cose per questo telefono e devo dirvi che la samsung con questo telefono mi è stupito va davvero tantissimo e in questo video scoprite perché detto ciò sigla questo è un quadro della clip precedente e dopo che sono passati due giorni adesso stavo per renderizzare quel video questo video beh ovviamente un problema doveva esserci in questo caso ho una microsd talmente di merda ma talmente di merda che la clip principale per tutto quello dove mostro il telefono shaone ma data arrivederci sulla scheda sd appena l'ho passato il pc morta stramorta non me la prima proprio e quindi detto ciò ritorniamo al alla recensione di questo fantastico telefono calcoliamo già una cosa allora questa clip è servita una cosa solo per farvi vedere il fatto che io questo telefono l'ho usato due giorni fa per fare la clip e avevo la batteria al 60 per cento più o meno e dopo due giorni rega dico due giorni quasi questo sarebbe il secondo giorno oggi la batteria riga è incredibile al 19 non riesco a mettere a fuoco e vai comunque rega è al 19 per cento è incredibile come la batteria di questo telefono duri ma veramente molto poi detto ciò ripassiamo allo schermo esterno per farvi vedere il telefono a rega comunque se vedete della luce di merda avete appena scoperto che da qui sto usando il ring light di tiktok e uso per fare tiktok anche se non li uso per anche se non li faccio però nel dubbio ring light è d'obbligo perché fa un'ottima luce ed è qui una lampadina casuale che ho trovato che ho collegato tramite l'usb quindi vi chiedo scusa per la registrazione penosa comunque come potete vedere rega ritornando al telefono questa sarebbe la batteria rimanente alle 10 di due giorni dopo cioè è incredibile regala duratica questa batteria adesso sicuramente in video non renderà in cam però in questo momento questo telefono all'interno ha un schermo a 120 hertz davvero ultra fluido se non vedere sulle informazioni possiamo vedere che questo telefono a la guagno ai 3.1 e android 11 fantastico che adesso non riesco neanche ad attivare ecco qua questo è android 11 di questo telefono e non serve a niente però non cambia niente quella schermata comunque se andiamo nel dispositivo rica possiamo vedere che ha come memoria interna 256 giga di memoria e oltre ad avere 256 giga di memoria a raga 12 giga di ram cioè io quando ho visto che aveva 12 giga di ram ho detto porco schifo schifo è un palesimenti un computer vi dico rega alle prestazioni che girano a bomba sto telefono comunque ovviamente la batteria è una 45 4500 mAh semplicissima fortissimo dopodiché vabbè wifi bluetooth nfc tutte le cose normali che ha un telefono cosa di altro di cosa altra di particolare la elaborazione avanzata quindi applica più potenza al telefono normalmente come potete vedere la proprio rapidamente i dati per tutte le applicazioni eccetto i giochi consuma più batteria comunque poi abbiamo la batteria la condivisione della ricarica wireless quindi in questo caso possiamo condividere la connessi la la batteria del telefono con un telefono con l'altro telefono semplicemente appoggiandolo qui ma comunque rega per farvi vedere l'estetica questa è l'estetica di questo telefono cioè è bellissimo è bellissimo solo perché la fotocamera fatta così lo so tipo madonna ma è più alta la fotocamera che telefono lo so però non vi preoccupate perché noto appoggiate sul tavolo cioè non è che da tanto di quel fastidio che comunque adesso ci ha appoggiato una cover che fa anche abbastanza da bordo per la fotocamera quindi diciamo che mi trovo più comodo qui ovviamente di lato come al solito abbiamo la scritta samsung fatta proprio tamar qui abbiamo il pulsante per alzare il volume abbassare il volume e poi qui abbiamo il pulsante di accensione che come abbiamo visto negli ultimi telefoni della samsung fa anche da impronta digitale che adesso io non ho configurato perché non mi trovo non è che mi piace molto cosa altra possiamo provare allora sicuramente andiamo a provare un gioco adesso non lo so se si vede la fluidità che avrà questo telefono però rega ve lo dico adesso real racing 3 supporta i 120 airs quindi è un gioco che gira a bomba non so quanto può rendere a voi in cam però rega ve lo dico incredibile faccia cioè rega e io sono rega da sbattere dappertutto ma non so giocare cioè io questi questo gioco l'ho provato solo per il test di gaming del telefono con i 120 airs però ho detto in campo può tanto non rendere e tanto può rendere ma non credo renda molto sapendo che la cam e 60 frame comunque non solo il comodo per giocare questo telefono non solo anche non solo sullo schermo esterno ma anche scusi interno soprattutto la comodità su questo telefono rega è quella di guardare film c'è è una cosa di bellissimo e fantastico allo stesso tempo che probabilmente stanno la stessa parola però dettagli ok rega comunque bello in tutto il per tutto il telefono probabilmente è fantastico però ovviamente sono ancora alcuni diciamo bug di applicazioni che non sono state risolte quindi in questo caso ne so ho la l'app della mia sim in questo caso cercherò di censurare cercherò di censurare il numero ecco vedete qui sullo schermo interno la vedo bene ma mentre poi se vado ad aprire ma quando la vado ad aprire sullo schermo interno rega questo è il problema ovviamente adesso sto essere caso però andare a censurare il numero non come potete vedere c'è questo bug che e ogni tanto le applicazioni diciamo che si sballano e sono state ottimizzate per lo schermo esterno ed interno e quindi danno questo problema comunque tornando alla schermata principale ovviamente se spero che non ci sarà visto il numero ma in caso si è visto non vi preoccupate quello di mio padre quindi si è altra cosa comoda rega è questo ovvero cosa la modalità con una mano rega è la cosa più bella di sto telefono bello usare il telefono con una mano senza farsi problemi è la cosa più incredibile che ci possa essere ma non solo su quello interno anche su quello esterno rega nonostante quello esterno già si usa con una mano cioè si riempicciolisce in un modo rega che è incredibile comunque ritornando alla schermata normale cosa altro puoi farci vedere nick di questo telefono che è così youtube si lo so youtube andiamo a prendere una dncs nonostante poi ovviamente se apriamo lo schermo interno possiamo vedere tutto qui senza problemi adesso prendo una canzone totalmente a caso rega la cosa comoda questa è la vita eterna sta cosa cioè avere il telefono che si mette così e dopo noi da sotto possiamo scorrere le altre cose è la vita eterna ovviamente dovrebbe supportare normalmente anche la grafica 4k adesso visto che è un ncs posso alzare anche il volume al massimo proprio per non spaccarvi timpani probabilmente se alzo cercherò di abbassare nel video un poco comunque mettiamo in modo musica cioè rega adesso ve l'ho detto in video non può rendere però questo è l'audio ok direi che anche abbastanza rega comunque ve l'ho detto ha un audio che è spaziale rega adesso non è neanche il massimo perché se metto il massimo penso che qui mi sentono anche fuori da camera mia quindi non non vorrei che comunque ritornando al telefono allora rega abbiamo visto tutto questo telefono anche la fotocamera allora questa è la frontale salve in questo caso con la frontale cosa possiamo fare allora prima cosa se usiamo questo bovottoncino tattico qui possiamo spaccare lo schermo in due oppure fare semplicemente così e lo spacchiamo comunque in due fantastic ok ingrandiamo comunque salve mentre poi se giriamo quella esterna rega è incredibile queste sono le luci che ho una luce collegata alla switch e un ring light da quest'altro lato anche rega per quanto riguarda i video cose ecco ora voi state chiedendo cosa serve sto coso con scritto ecco semplicemente clicco sopra e mi fa un'anteprima sullo schermo esterno quindi in questo caso se io vorrei registrare un video con la fotocamera esterna che si vede meglio ecco qua rega ho libero accesso io posso tranquillamente fare il video così e dopo posso guardarlo da qui con tutta la comodità del mondo mi ha detto che alcuni di voi stanno dicendo sì vabbè ma tanto tu l'avrai preso tipo su amazon l'hai preso e per poi farci il reso giusto per farci vedere no regalo l'ho comprato proprio comprato e non l'ho comprato su amazon ma sul sito originale della samsung questo è lo 0.5 per rega questo è l'uno per questo è il 2 per 4 per e andiamo in modalità fotografia 2 per e poi c'è il 10 per rega che cioè è incredibile è fottutamente incredibile rega la grandezza di questo di questa fotocamera lo zoom che fa poi da notare rega che la samsung qua si è provoduta anche per quanto riguarda le animazioni guardate cioè vedete un po' alla volta switcha anche qua qua scorre un po' alla volta rega è proprio fatto ad hoc dalla samsung quindi rega su questo telefono la samsung mi ha veramente stupito in tutto e per tutto momento con paraculata con dirvi che ho trovato nel mio pc queste vecchie clip registrate sulle differenze di fotocamera tra z flip e z fold quindi che fai le trovi e te le privi di mettere e no che non te ne privi quindi in questo caso ecco per voi le differenze fra fotocamera z flip e fotocamera z fold ovviamente poi ci saranno anche le foto ma al momento questo è solo un test all'interno diciamo così ma adesso mettiamolo in confronto al z flip e vediamo cosa cambia eccolo qui rega z flip allora questo in questo caso adesso regala z flip allora sono entrambi chiusi e ne vogliamo parlare non lo so voi ma io si allora partiamo dalla cosa che già vi ho fatto vedere la fotocamera qui qui abbiamo l'anteprima esterna in caso vogliamo registrare qualcosa adesso ho chiuso la fotocamera sono un colio prendiamo questo e possiamo usare come vi ho detto la fotocamera esterna vedete e la stessa cosa si può fare anche qua però rega non lo so qui adesso quando era uscito era davvero comodo adesso non so più se è così perché non l'ho più usata sta funzione spostiamo questa un po' più in qua questa è la fotocamera di z flip ovviamente questa qua arriva fino a 0 a 8x e non ha le tre fotocamere questo qua ne ha solo due vabbè l'avrete già visto in quel video che ho fatto un botto di tempo fa comunque anche qui abbiamo l'anteprima e che fai? te ne è privi ad attivarla rega questa è l'anteprima che vediamo sullo z flip sarebbe giusto lo schermino esterno che vi fa vedere più o meno quello che state registrando anche qui molto comodo però rega se dovrai scegliere preferire comunque quella di z fold 2 perché diciamo che è la sample con cui mi ha stupito di più e poi qui vedete è giusto lo schermino esterno si vede non si vede quindi può essere sia molto comodo sia molto scomodo poi abbiamo anche il grand angolo quindi che fai te ne è privi e no che non te ne è privi comunque sarebbe consigliato fare così perché vedete almeno così mi vedo per intero più o meno e non così perché mi vedo più o meno mezza faccia quindi detto ciò rigiriamo entrambi i telefoni ora mettiamo un attimo a prova col grand angolo di z flip e anche qui rega direi assolutamente che z fall 2 se la porta a casa perché come potete vedere il grand angolo è più grosso direi ci volte più grosso sarà anche che il telefono è così ma comunque abbiamo come grafica anche qui qui tre quarti e quindi mettiamo anche qui tre quarti già se mettiamo tre quarti lega direi assolutamente promosso perché su tre quarti se la gira molto molto meglio potete vedere mentre hdr automatico in drambi però mi trovo meglio con il 9 22esimi quindi in questo caso schermo intero full comunque cos'altro si può dire di questo telefono ha una stabilizzazione che mi sta veramente piacendo un botta sta cosa perché si sta stabilizzando in una maniera incredibile sarà il fatto che sullo stand però si stabilizza rica che una maniera incredibile cioè vogliamo parlarne comunque come potete vedere col grand angolo riesce a prendere lo z flip senza nessun problema penso che anche per lo z flip sia così vediamo è più o meno lo z flip rega sarà anche il telefono che è grosso ma lo z flip fa leggermente più fatica cosa che mi piace di più dello z fold il fatto che ricada una fotocamera all'altra ci passa molto molto lentamente tipo se dovrei fare così io passare dalla dici vedete passa molto lentamente skip pezzo per pezzo va bene comunque abbiamo capito le i pro che ha lo z flip e i pro che ha lo z fold a parte che da chiuso mica questo ve lo portate appresso senza problemi questo da chiuso è un po un padellone in tasca cioè parliamo di una bella differenza però questo qua ricordiamo questa è la versione precedente dello z flip perché ovviamente precedente per dire perché in confronto la versione nuova che hanno fatto questo qua non è 5 g non cambia un campo ma però dettagli però rega veramente se dovete metterlo in tasca questo zero problemi proprio scialla ci va tutto questo minimo metà telefono rimane fuori minimo quindi o vi portate che ne so un guinzaglio per telefono o non so voi comunque detto ciò probabilmente di questi telefoni metterò delle clip ogni tanto per il video sparse probabilmente l'avete già viste e metterò anche qualche foto fatta con questo telefono quindi detto ciò non lo riesco neanche più a chiudere e vai ok è arrivato il momento di fare foto in video con z fold 2 e con z flip la mente prima della volga perché alla precedenza e poi da flip musica serie grazie dicevo musica serie grazie dicevo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è il 4x, guardate, c'è uno zoom incredibile. Adesso c'è direttamente il 10x, che direi che può leggermente sgranare, ma non è assolutamente nulla di che, anzi è veramente fantastico lo zoom che ha questo telefono. Incredibile. Questo è la modalità selfie con la fotocamera esterna ovviamente di Z Fold 2 e direi che questo è veramente fantastico. A parte che nel Z.5x poi ovviamente posso tranquillamente zoomare senza problemi c'è un gatto sotto alla macchina a dettagli. Cioè raga, è incredibile. E c'è anche una microimmagine del microfono che in base a come ingrandisco e diminuisco la grandezza della fotocamera, quindi l'ampiezza, c'è anche la modifica dell'audio. Quindi si sente più vicino oppure più lontano. In questo caso potrei anche attivare il 10x e mi sarei automaticamente appuntato nell'occhio. Quindi questo era un late clip, ritorniamo al video. Aha, ditela la verità, pensate che le clip erano finite e invece sono quelle dello Z Flip. State tranquilli, il video continuerà. Penso che comunque questo video si durerà parecchio, quindi spero nel video vi sia piaciuto fino ad adesso. Quindi continuiamo con le clip dello Z Flip all'interno e quelle dello Z Fold all'interno. Ovviamente questo audio è registrato con il microfono del PC, quindi la qualità mi dispiace per come si possa sentire. Raga, questa è quella, la prova fatta con lo Z Flip in Ultra HD 60 frame. Allora, penso che ovviamente l'audio non possa chissà quando cambiare, però raga, diciamo, hanno una bella differenza di prezzo. Sono ovviamente due telefoni di fascia alta, infatti ancora il prezzo ovviamente. Che, diciamo, lo Z Flip lo troviamo, adesso era anche calato un po' di prezzo, lo troviamo sui 1.300, io l'avevo preso 1.500, 1.600. Questo ne sta 2000, anzi 2000 e passa, perché adesso non mi ricordo che ci sono, sta intorno ai 2000 e passa. Comunque questo, ve l'ho detto, era la prova fatta con lo Z Flip. Io, adesso sicuramente in questo video stavate dicendo, Nick, ma perché stai usando lo stand quando potresti usare il telefono piegato? Volete vedere come si vede col telefono piegato? Ecco a voi la... come si vede col telefono piegato. Allora, raga, c'è stato un po' un problema con la clip del telefono piegato, però si vede leggermente male, perché sta da renderizzato in modo male. Mi dispiace per questo, comunque, spero che comunque vi piaccia il risultato di come si vede piegato. Io avrei anche registrato col telefono piegato, solamente che questo è il risultato, a parte il fatto che il mio video è fatto in orizzontale, quindi continuiamo lì in orizzontale. Però già la cosa che si vede in verticale, già non mi piace. E poi, raga, noto il fatto che si vede... spero sia la schermata che si vede più piccola, però... Io credo proprio che cambia anche in risoluzione, quindi si vede in un altro modo la schermata. Comunque, dentro ciò, raga, non ho niente più da dirvi, quindi... ciao ciao! E come già vi ho detto, sono delle clip che ho registrato in precedenza, quindi in questo caso dico che il video è finito, ma in realtà non è finito, perché ci vogliono le clip dello Z Fold all'interno. Quindi il video assolutamente continua, al 100%. Avete dubbi? Dopo un intero pippone di video, penso che una prova audio con questo telefono ci stia anche troppo bene, ovviamente non si possono fare zoom, invece sul mio radio si poteva fare. Comunque, raga, ve lo dico, allora, questo è il test audio di questo telefono e devo dire che la differenza credo che si sente, dopo lo sentirò ovviamente in fase di rendering. Adesso lo sto registrando questa clip in full HD 30 frame, quindi ovviamente uscirà anche una seconda clip dopo, che però registrerò in, penso se è disponibile, o full HD 60 frame oppure ultra HD 60 frame che sarebbe il 4K. E questa sarebbe la prova 60 frame ultra HD, perché la full HD 60 frame non c'era, era disponibile, l'ultra HD 60 frame che fai nei primi di una prova così audio fatta. Raga, direi comunque, se io già muovo la mano così, già vedo sul telefono che c'è una bella differenza, quindi spero che il video vi sia piaciuto, farò di nuovo la outro finale, però spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi siete divertiti soprattutto ad ascoltare le cazzate che io dico, perché alcuni saranno cazzate, alcuni no, ovviamente l'info sul telefono di certo non posso dire stronzate perché sono vere, ma probabilmente metterò anche qualche clip dello Z Flip con la differenza audio, così potete fare differenza fra questo, questo che sarebbe lo Z Fold, e questo telefonino qui. E niente raga, passiamo allo Z Flip, lo so raga, non ho un cazzo da fare, non me lo dite, non me lo dite nei commenti che non ho un cazzo da fare, perché io letteralmente non ho un cazzo da fare. Ma siccome nei clip dello Z Flip l'ho messa già in precedenza, sarebbe anche abbastanza inutile mettere, quindi detto ciò dire di passare direttamente alla outro del video, e buona giornata. Detto ciò, spero che questo video vi sia piaciuto, più o meno, ah raga comunque da notare che hanno entrambi il pulsantino per l'infronte digitale sul lato, fantastico, probabilmente inizierò ad usare più l'infronte digitale. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia fatto comprendere qualcosa di questi due telefoni, anche se non credo molto, però in caso non avrete capito qualcosa di questo telefono, c'è la recensione fatta a parte, basta scorrere un po' di circa un anno indietro nel mio canale, abbastanza easy come cosa. Mentre per questo, questa era l'accensione di questo fantastico Z Fold 2. Quindi, quindi, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao, da notare la... il ring light, quanto cazzo sia tattico. Cioè... Vogliamo parlare di come io mi sto illuminando la faccia? Come mi sto illuminando la faccia con un ring light sul telefono e una lampadina connessa al Nintendo Switch? Ne vogliamo parlare? Credo proprio che non sia proprio il momento di parlarne. Bella. Ciao ciao.